Cari amici, buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Mercoledì 30 giugno, ultimo giorno del mese, caratterizzato da flussi veicolari intensi, soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio dell'attività lavorativa. Già al momento si registrano code sia sul tratto capitolino dell'A24 e alla diramazione di Roma a sud per due chilometri tra Torre 9 e grande raccordo anulare, proprio per la difficoltà di mettersi sul grande raccordo anulare stesso. Oggi sarà una giornata fusa con temperature elevate e allerta gialla per possibili temporali in Lombardia e Veneto. Ma vediamo come si presenta la viabilità in area Meneghina, come vedete flussi intensi di traffico qui all'altezza di Sesto San Giovanni. Ancora disagi questa mattina in area Ligure per i programmati lavori di manutenzione. Si registrano code sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, in questo momento tra il Bidio della 10 e Masone in direzione Gravellona e con tempi di percorrenza superiori alla norma da Bollino Rosso, con forti ripercussioni anche sulla 10 e la stessa vicina a 12. Raggiungiamo l'A9, l'Enate Chiasso, perché anche qui sono code sempre per lavori tra Como Centro e Como Monte Limpino in direzione del territorio elvetico. Sulla 4, un tratto gestito dalle autostrade, autovie Venete, si è verificato un incidente che sta generando code in questo momento tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. E poi abbiamo code sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, sempre per la stessa tipologia di lavori, tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Se mi fermo qui, grazie per l'attenzione da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, il prossimo aggiornamento è all'interno di uno mattina tra circa 20 minuti. Vi aspetto, arrivederci.